Ciao a tutti e benvenuti su About Biology. Nello scorso video abbiamo visto come trattare le cifre significative. Adesso capiremo l'utilità dell'accuratezza e della precisione e inoltre vedremo uno strumento che può essere essenziale nella risoluzione dei problemi. L'accuratezza ci dice quanto una misura è vicina al valore della quantità che è stata misurata, mentre la precisione si riferisce a quanto strettamente due o più misure della stessa quantità sono in accordo l'una con l'altra. Affinché una misura sia accurata il dispositivo di misurazione deve essere perfettamente calibrato, cioè deve essere regolato sul valore corrispondente a uno standard di riferimento. Per calibrare una bilancia elettronica, per esempio, si pone sulla bilancia una massa di riferimento e si dà inizio alla procedura di calibrazione. Una volta calibrata questa bilancia fornirà le letture la cui accuratezza dipenderà dall'accuratezza della massa di riferimento utilizzata per la calibrazione. Abbiamo detto che la precisione ci indica invece quanto sono vicini tra loro i valori ottenuti da delle misurazioni ripetute della stessa quantità. Come abbiamo visto ciò dipende in parte dalla nostra capacità di leggere la scala di uno strumento, ma anche dal controllo delle condizioni in cui si effettua la misurazione. La differenza tra accuratezza e precisione è sottile ma importante. Generalmente assumiamo che una misura molto precisa sia anche accurata. Questo potrebbe non essere vero se i nostri strumenti non fossero perfettamente calibrati. La calibrazione permette infatti di eliminare gli errori che influiscono sull'accuratezza, ma non quelli che influiscono sulla precisione. Gli errori di precisione, che sono definiti errori casuali o rumore, possono essere ridotti al minimo ripetendo più volte la misura e calcolandone la media. Questi tuttavia non possono essere eliminati del tutto. Benissimo, sappiamo quindi che misure accurate e un uso appropriato delle cifre significative, insieme ovviamente ai calcoli corretti, forniranno risultati numerici corretti. Tuttavia, per avere senso, il risultato deve essere espresso nelle giuste unità di misura. E l'approccio spesso sottovalutato che ci dà un grande aiuto nella risoluzione dei problemi è l'analisi dimensionale. Ma prima ti ricordo di iscriverti al canale. A te basta un click, ma a noi fa davvero la differenza. Per avere senso, abbiamo detto quindi che il risultato deve essere espresso nelle giuste unità di misura. E, come abbiamo visto negli scorsi video, che ti consiglio di recuperare, a ciascuna grandezza fisica, che sia fondamentale o derivata, è associata a una dimensione. Per esempio, la dimensione della velocità è una lunghezza fratto il tempo. E la velocità media è infatti definita come il rapporto tra lo spostamento e la durata di tempo in cui questo spostamento avviene. Dal momento che lo spostamento è una grandezza fisica che ha la dimensione di una lunghezza, e la durata di tempo ha ovviamente le dimensioni di un tempo, si ha che la dimensione della velocità è uguale a una lunghezza fratto il tempo, che nell'analisi dimensionale scriviamo in maiuscolo, o anche l per t alla meno 1. L'accelerazione, invece, è definita come il rapporto tra una velocità e la durata di tempo in cui avviene tale variazione. Questo, infatti, ci permette di dire che se la velocità è espressa dimensionalmente come una lunghezza per il tempo alla meno 1, se tutto questo è fratto il tempo, avremo che dimensionalmente l'accelerazione è definita come una lunghezza per il tempo alla meno 2. Come abbiamo appena visto, e come capiterà sicuramente negli esercizi che affronterete nel vostro studio, nell'analisi dimensionale occorre fare delle piccole operazioni con le dimensioni, e di seguito troverete delle semplici regole per svolgerle al meglio. Quando indichiamo una dimensione, che sia la lunghezza, il tempo o altro, non possiamo sommare o sottrarre due o più dimensioni diverse, e quindi non sarà possibile svolgere dimensionalmente una lunghezza più il tempo. oppure una lunghezza più la massa. Questo dimensionalmente non è possibile. Queste si possono eseguire soltanto tra delle dimensioni dello stesso tipo, ma attenzione, il risultato coinciderà sempre con la dimensione di partenza. Infatti, L più L darà L e non 2L o L al quadro. Per quanto riguarda invece il prodotto e il rapporto tra le dimensioni di qualsiasi tipo, dobbiamo operare con gli esponenti. Infatti, L per L per L darà L al quadro come somma degli esponenti, perché in questo caso consideriamo qui un 1 e un 1, e quindi 1 più 1 darà 2. l al quadrato fratto L sarà quindi equivalente a dire L al quadrato per L alla meno 1 e questo sarà uguale a L mentre invece, un altro esempio con L al cubo per M tutto fratto T al quadro darà L al cubo per M per T alla meno 2 Una cosa importante è capire bene la differenza tra una dimensione e un'unità di misura. Una distanza può essere misurata in centimetri, metri o chilometri ossia può essere espressa in qualsiasi unità di misura di lunghezza ma la dimensione della distanza sarà sempre una lunghezza indipendentemente dall'unità di misura scelta Lo stesso esempio si può fare con il tempo questo infatti si può misurare in secondi, decimi di secondo o nanosecondi ma avrà comunque una dimensione di un tempo ma come ci può aiutare l'analisi dimensionale nello svolgimento di un esercizio? L'analisi dimensionale non ci aiuta direttamente a svolgere l'esercizio ma ci permette di capire se il risultato che abbiamo ottenuto rispecchia quello che volevamo ottenere in partenza e ci dice quindi se quanto abbiamo scritto ha senso dimensionalmente parlando Concludiamo quindi con un semplice esempio Sappiamo dagli scorsi video che la densità di un materiale è data dal rapporto tra la massa del materiale e il suo volume Se volessimo ricavare l'espressione del calcolo del volume per definizione essendo la densità uguale alla massa per il volume la formula inversa sarà che il volume è uguale alla massa fratto la densità del corpo il che rappresenta l'espressione per il calcolo del volume dimensionalmente parlando il volume è espresso come una lunghezza al cubo mentre la massa è espressa appunto come avevamo visto prima come una massa e questo significa che la densità sarà come una massa fratto una lunghezza al cubo che può essere anche definita come una massa per una lunghezza alla meno 3 Ora, dato che noi volevamo trovare l'espressione del volume in termini dimensionali abbiamo detto che questo sarà uguale a una lunghezza al cubo e definito come la massa fratto la densità Dato che abbiamo le dimensioni della massa e della densità possiamo trovare la dimensione del volume che dovrà essere uguale a l al cubo Aggiungendo quindi la dimensione della massa che è una massa e quella della densità quindi dividendo tutto per la densità ovvero questo ovvero m per l alla meno 3 otteniamo semplificando quindi m ed m e portando al numeratore l alla meno 3 quindi otteniamo che questo è equivalente a 1 per l alla meno 3 e questo è uguale a l alla 3 Abbiamo quindi dimostrato dimensionalmente parlando che il risultato è un risultato corretto ed è stata quindi verificata l'omogeneità dimensionale dell'espressione impiegata Quando hai svolto il tuo problema per verificare quindi se hai scritto un risultato dimensionalmente corretto che quindi ha senso dal punto di vista dimensionale ti consiglio di svolgere questo piccolo calcolo Chiaramente in questo caso abbiamo dovuto introdurre tutte le varie unità dimensionali ma con un po' di pratica questi calcoli possono essere fatti davvero in breve tempo Questo può aiutarti davvero a capire se il tuo problema ha un senso dal punto di vista dimensionale oppure hai fatto qualche errore nel procedimento Detto ciò si conclude questo video sull'analisi dimensionale delle misure Ti ricordo di iscriverti al canale per restare aggiornato sui prossimi contenuti e inoltre se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo biologico e scientifico seguici su Instagram e Telegram ai link che trovi qua sotto in descrizione Per il momento è quindi tutto Grazie per l'attenzione e a presto da About Biology Grazie per l'attenzione e a presto! Grazie per l'attenzione e a presto! Grazie per l'attenzione e a presto! Grazie per l'attenzione e a presto!